Elegante, raffinato, il locale più in del momento si chiama Deja Vu. Deja Vu è il bar caffetteria dove puoi gustare la tua prima colazione e non solo. Dalle 18 alle 21 appuntamento fisso per l'epi hour più esclusivo. E al Deja Vu l'alta cucina è di casa. Antipasti sublimi, primi e secondi piatti a base di carne e di pesce. Fresche insalate e deliziosi dessert sono le specialità del nostro chef. E per chi ama il buon vino, al Deja Vu si possono degustare i migliori spumanti e champagne, vini bianchi e rossi e perfino vini da dessert, oltre alle ottime birre artigianali. Vieni a trovarci in piazza Vittoria Veneto 29 ad Avolat. Drink, Lounge, Bar Restaurant, Deja Vu.